Ciao e benvenuto nel video di oggi. Quello di oggi è il primo video di una rubrica che potrei e vorrei chiamare vita da invalido, perché come ben sai do sempre molta attenzione alla categoria degli invalidi e perché tra tutte quante le persone che mi iscrivono, si confidano con me e mi chiedono magari suggerimenti e tra i miei clienti ho tantissime persone che sono invalide per qualche ragione o a livello di malattia o a livello magari di un infortunio, hanno avuto un infortunio o sul lavoro o fuori dal lavoro e come ben sai, te lo ripeto sempre, anche nella mia famiglia sia mio papà che venisse, prima che venisse a mancare che mia mamma sono invalidi e di conseguenza ho vissuto sulla mia pelle queste situazioni ed allora per la storia di oggi, per la rubrica vita da invalido, ti racconterò la storia di Antonio Antonio naturalmente nome inventato, ma per metterti in guardia da quelle che sono le brutte sorprese che possono capitare e per far sì che tu possa così evitarle prima di fare questo, come al solito però, mi presento io sono Daniele Stroppiana e sono il fondatore del progetto Assicuratore Senza Sorprese questo è il mio canale YouTube, questo video va anche su tutti quanti gli altri social se non l'hai ancora fatto, iscriviti e soprattutto se hai piacere di sostenermi metti un bel like e condividi questo video con più persone possibili veniamo però allora alla storia di oggi Antonio è un pensionato, se così si può dire è un pensionato che riceve l'assegno di invalidità civile e quindi percepisce 290 euro più l'accompagnamento Antonio ad oggi, qui a Torino, è da solo perché sua figlia abita e lavora in Svizzera, al di là del confine italiano ed allora Antonio già da qualche anno si è trovato ad essere completamente da solo e a dover vivere completamente da solo solamente con l'assegno dell'accompagnamento e l'assegno di invalidità civile Antonio vive in una casa popolare che gli è stata assegnata da qualche anno e però ha a malapena i soldi per arrivare a fine mese la figlia essendo in Svizzera, avendo il lavoro là con la propria famiglia non può fare avanti e indietro e quindi non può prendersi cura di Antonio e Antonio si sente molto solo in più non ha i soldi per pagare qualcuno nella maggior parte dei casi per dargli una mano Antonio è comunque seguito da alcune associazioni quindi non è completamente da solo però mi racconta che si sente comunque da solo perché anche le associazioni possono fare ben poco visto che i fondi sono limitati ed allora parlando con lui gli ho chiesto e mi ha raccontato ben volentieri che cosa è successo ad Antonio circa una decina di anni fa è stata diagnosticata una malattia per la quale pian piano è degenerata ed è arrivato all'invalidità permanente e quindi non può camminare non può utilizzare le gambe per fortuna può utilizzare le braccia ma comunque ha bisogno di qualcuno per fare tutte quante le sue attività di casa Antonio non era assicurato perché non ha mai trovato con il suo assicuratore il tempo perché lavorava parecchio faceva il muratore quindi era sempre in giro per portare i soldi alla famiglia e alla figlia quando era piccola e non ha mai trovato il tempo per parlare con il proprio assicuratore di protezione di polizia infortuni di polizia malattia non ha mai trovato il tempo e i soldi da destinare a una soluzione assicurativa e non si è mai fermato a fare un'analisi di quella che è la casa della protezione della quale ti parlo sempre quindi le fondamenta legate alla salute all'invalidità alla lunga vita quindi non in salute e alla premorienza né tantomeno a tutte quelle che sono i piani superiori della responsabilità civile dei beni e della gestione dei soldi Antonio si è trovato quindi dall'oggi al domani a dover gestire una situazione insostenibile ingestibile e a doverla gestire praticamente da solo quello che ti voglio trasferire di Antonio è il fatto che da un lato è una persona comunque che è fortunata perché non è completamente da sola come ti dicevo ci sono delle associazioni che lo seguono che in qualche modo cercano di dargli una mano dall'altra però la situazione di Antonio è tragica perché dal punto di vista economico è limitato ogni tanto mi ha detto sua figlia riesce a mandargli qualcosa o comunque viene a trovarlo e quindi riesce a dargli qualche soldo, qualche risparmio ma capisci bene che Antonio si sente anche in colpa del fatto che la figlia debba dare a lui dei soldi perché quei soldi che la figlia dà a lui non può destinarli per lei e per la sua famiglia e quindi per i suoi due bambini, i due nipotini che ha in Svizzera dove vive e di conseguenza Antonio dice l'avessi saputo in passato sicuramente mi avessero detto che mi sarebbe successo questo mi sarei assicurato una cosa bellissima che mi ha riportato scusatemi per l'emozione ma è una storia comunque toccante una cosa bellissima che mi ha detto è Daniele avrei tanto voluto vedere i tuoi video più di dieci anni fa avrei voluto avere un assicuratore come te e avrei voluto capire prima quella che era l'importanza e i rischi che correvo naturalmente nessuno può dirti quello che ti capiterà in futuro però se capisci realmente quelli che sono i rischi comunque qualche cosa fai sempre quindi non ti trovi poi scoperto è completamente colpito da quella brutta sorpresa che è capitata io sento periodicamente Antonio praticamente due tre volte all'anno ci sentiamo lui è qui di Torino non è un mio cliente però è una persona che è venuta in contatto con me da qualche mese attraverso i video e ripeto ho inventato il suo nome ho cambiato quelle che sono le sue generalità però questa è una storia vera realmente accaduta e che ho chiesto comunque a lui la possibilità di riportare alle altre persone per far sì che si potessero appunto informare il maggior numero di persone possibili quindi se non l'hai ancora fatto ti invito ad iscriverti al mio canale youtube e a tutti i miei canali social di mettere un bel like a questo video e di condividere questo video la storia di Antonio per far sì che la maggior parte delle persone possa così proteggersi e tutelarsi attraverso un'analisi preventiva che naturalmente do la possibilità di fare per stare così lontani dalle brutte sorprese della vita che purtroppo quando capitano non ti avvisano prima per questo oggi è tutto spero che questo primo video della rubrica vita da invalidi ti sia piaciuto spero tu voglia sostenermi in questo progetto e non mi resta che mandarti un caloroso abbraccio e darti appuntamento al prossimo video o alla prossima live ciao